Un mese fa gli scontri prima della partita Inter-Napoli, adesso ci sono nuove immagini che vediamo con Claudio Pandolfi. Sono le 19.33 del 26 dicembre. Le immagini delle telecamere di Via Novara a Milano hanno l'orologio ancora sull'ora solare, ma mostrano chiaramente la colonna di auto diretta allo stadio che si ferma. I tifosi napoletani scendono subito affrontati da quelli dell'Inter. Lo scontro è violentissimo, usano petardi, sassi, bastoni, coltelli, persino roncole. Addirittura gli sparti traffico vengono lanciati addosso agli avversari. Qualcuno cerca di ambattere dei paletti d'acciaio, forse da usare come arma, ma non ci riesce. Un'azione squadrista studiata a tavolino, quasi militare, la definiscono gli inquirenti. Una guerriglia selvaggia che va avanti per lunghi minuti, fino a quando, fuori dall'inquadratura, l'ultraenterista Daniele Bellardinelli viene travolto da almeno un'auto. Morirà in ospedale poche ore dopo. Quattro napoletani restano feriti, uno da una coltellata. Le indagini sono ancora in corso, 28 finora gli indagati di entrambe le curve per omicidio volontario.